L'eccellenza del territorio e del suo frutto, uniti ad una nuova tecnica spumantistica, danno vita alla denominazione più rara ed esclusiva del Prosecco. Asolo Prosecco Superiore di Occeo. Fragrante ed originale, spicca per lo stile inconfondibile. Il suo segreto rispetto al Prosecco Doc risiede tutto nel gusto. Sapidità e finezza lo contraddistinguono senza eguale. La Cantina Montelvini, da un unico vigneto chiamato Fontana Masorini, situato sulla collina del Montello a 333 metri sopra il livello del mare, crea FM333. Questa bollicina deve infatti il suo nome all'altitudine e dal vigneto di origine, elegante e autentico, proprio come il territorio da cui proviene. FM333 nasce per essere consumato in buona compagnia. Ogni occasione è perfetta per gustare. Fatti conquistare dalle note uniche di FM333. Ti stupirà ad ogni sorso!